Buongiorno e benvenute, questa è la segna stampa di oggi 11 febbraio. Allora ci sono varie cose sui giornali, però quella che c'è meno sui giornali riguarda le elezioni in Abruzzo. Il motivo è molto semplice perché in Abruzzo si è votato e si è scrutinato questa notte, quindi i giornali hanno preso la tendenza ma non hanno dato forse i risultati finali, che vedono vincere circa al 50%, poco sotto il 50% dei voti, la coalizione del centro-destra che riesce quindi a fare eleggere il presidente della regione Abruzzo, un uomo di Fratelli d'Italia che fa parte della coalizione in cui ci sono dentro Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e mi sembra anche una ridotta parte della Udc. Il secondo dato significativo che all'interno di questa coalizione stravince la Lega di Matteo Salvini che raddoppia i suoi voti rispetto alle politiche dell'anno scorso, cioè del giugno. Nel frattempo succede un'altra cosa e che all'interno di quella coalizione invece perde voti tanti, 57 mila Forza Italia, mentre invece Fratelli d'Italia ne guadagna qualcuno anche trascinato dalla sua presidenza che è stata assegnata appunto a un suo uomo dall'onorevole Miloni. Quindi bene Lega, ma benissimo Lega, male Forza Italia, Benino Fratelli d'Italia, molto bene il centro-destra che stravince. Si giocava il posto tra il secondo e il terzo, secondo una classifica che fanno i giornali, quando il posto tra il secondo e il terzo vale nelle elezioni politiche a 0, perché o vinci o perdi in politica. Quindi la coalizione di centro-destra ha preso il 48, il centro-sinistra è arrivato a seconda col 31 e il Movimento 5 Stelle terzo col 20,20%. Cosa ci dice quest'altra cosa? Ci dice che il Movimento dei Grillozi ha dimezzato i suoi voti, ne ha persi 174 mila, li ha dimezzati rispetto alle politiche del marzo scorso, ma più o meno ha preso gli stessi voti del 2014 quando si presentò alle elezioni la medesima candidata in Abruzzo. Cosa vuol dire questo? Che non è cresciuta, è cambiato il mondo, ma il mondo è cambiato a favore della Lega e non sembrerebbe del Movimento 5 Stelle. Si può dire che quindi l'andamento del Movimento 5 Stelle è stato pessimo, il peggiore di tutti quanti i partiti. In realtà è stato molto paraculo l'atteggiamento di Legnini, è molto bello che uno fa dal vicepresidente del CSM al candidato delle regionali dell'Abruzzo, cioè nel momento in cui stiamo parlando che il Movimento 5 Stelle e la Lega vogliono attaccare le istituzioni, un uomo delle istituzioni di nomina politica come il vicepresidente del CSM da vicepresidente del CSM si candida presidente di una regione Abruzzo. Ma su questo voglio dire, lasciamo perdere, perché la sinistra può quello che gli altri non possono, sia i grillini, sia i leghisti, sia Forza Italia, perché la sinistra è la sinistra, ricordatevelo, e quindi puoi tranquillamente fare il presidente della regione. E puoi anche dire oggi, con tutti i giornalisti che fanno così, che è anche andata bene. Non è andata bene, perché il PD ha preso il 10%, quanto più o meno Forza Italia. I due partiti hanno preso il 10%, col piccolo problema che il PD la governava quella regione, è andata malissimo, schifosamente male. È riuscita a battere il Movimento 5 Stelle perché si è messo tutte quelle liste parallele, 8 peraltro come aveva nelle ultime regionali, che le hanno permesso di portare un po' di voti sopra. Quindi il PD ha fatto una scelta, diciamo, giusta dal punto di vista tattico, ma voglio capire questa scelta tattica, che riporta il 30% nella regione Abruzzo, che ha governato fino a ieri, se è trasferibile a livello nazionale. I giornali si interrogeranno su come è andata la cosa, ma è andata così, ha vinto la Lega. Punto. Non è che ci sono altre cose, ha vinto la Lega e ha perso il Movimento 5 Stelle. Noi che parliamo chiaro, così dobbiamo parlare. Poi dopo ti diranno, bisogna paragonare con le regionali, e quindi con le regionali, in realtà del 2014 il Movimento 5 Stelle è rimasto tale e quale. Ma allora dovete obiettare, quelli allora della Lega sono passati dello 0,4% al 40%, al 35%. Bisogna paragonarlo alle politiche, allora hanno perso. Insomma, pensate, semplice, non fate casino. Il Movimento 5 Stelle ha straperso, la Lega ha stravinto. Mi può piacere o non piacere, ma questo è quello che è avvenuto in Abruzzo. Poi dopo vi voglio fare due notazioni di genere che a me mi hanno fatto impazzire, e che riguardano una Enrico Mentana e l'altra una giornalista che sta parlando ora su Sky, molto brava. Ed è la questione di genere. Ieri, durante la diretta di Mentana, una giornalista, mi sembra, di Huffington Post, si è permessa di dire che la candidata alla regione Abruzzo è la fidanzata, poi non l'ha neanche riuscita a dire, di un uomo di segreteria di Di Maio. Ma questa cosa non la diceva in maniera sessista, la diceva per dire che era proprio l'espressione dell'inner circle degli uomini di Di Maio o delle donne di Di Maio. Ventana, ma proprio da lei, da una donna, un accenno di questo tipo, ma che cosa sta dicendo? Ma tra l'altro non l'aveva neanche detta in questi termini, vorrei semplicemente dire questa ragazza di Huffington Post che la candidata alla presidenza è amica, è fidanzata al portavoce di Di Maio, un amico di Di Maio, un segretario di Di Maio e che quindi questo faceva capire che era non una catapultata. Semplice, banale, ma non si può dire nel mondo politicamente corretto. Ora, mi becco la telegiornalista di Sky, bravissima, straordinaria professionista, che mentre tutti stanno parlando e dicendole loro più o meno minchiate, come dico io in ogni momento, tutti noi diciamo solo minchiate, fermi tutto! Fatemi dire una cosa però, amici! E che cosa dovrei dire di così importante? Ma il coraggio del Movimento 5 Stelle che ha candidato una donna alla presidenza della regione Abruzzo. Vabbè. Io sono veramente... Io devo essere proprio uno... Cioè, come posso dire? Un razzista, non so cosa possa essere definito, ma si può fare una notazione di questo tipo? Possiamo prendere dall'America le cacchiate più enormi dell'America, ma chi se ne frega che una donna è brava o non è brava? E poi, è più importante una donna candidata alla presidenza dell'Abruzzo, se proprio lo vogliamo mettere, o una donna come la Meloni che sceglie il candidato dell'Abruzzo, come è riuscita a fare con due maschietti, come dicono queste qua, Berlusconi e Salvini, la donna con le palle, come dite voi, ha messo il suo candidato alla presidenza. Io la trovo una cosa ridicola, chiudo la parentesi, ma nel politicamente corretto devo andare a Sanremo. Tutti i giornali ne parlano, perché si parla della vittoria di questa canzone di Buamud. Io guardo, ho letto le interviste di oggi su tutti i giornali di Buamud, mi sembra un ragazzo favoloso, ma ve lo dico subito, un ragazzo che ha un padre egiziano, una madre sarda, ha vissuto a Grattosoglio, è nato là, è italiano come me e come voi, e su questo ci sono pochi dubbi, e quando gli fanno le domande della straminchia, i giornalisti della straminchia, e io ho sentito il razzismo, ma è che ho sentito il razzismo? Vivo in una periferia di Milano, che sento? Sento la povertà, non sento il razzismo, è chiaro, no? Sono in Libi, faccio un mazzo così, sono andato a scuola, mi hanno bocciato in inglese, ma mentre andavo molto bene in spagnolo, dice le cose normali di un ragazzo che nasce in una periferia di Dio. Il punto non è Muamud, non è la sua canzone, non è il versetto in arabo della sua canzone, che peraltro è una vecchia cosa che gli ricordava il papà, come la potrei dire io, non so, in andriese, non è questo il punto, il punto è un altro, che la canzone che piaceva al 60% degli italiani era quella che è arrivata a seconda, e che hanno fatto vincere questa canzone, come avviene in tutti i Sanremo, le giurie d'onore, le giurie di qualità. E allora vi leggo Ernesto Assante, allora lì capite che il punto è lì, non su Muamud, Ernesto Assante, critico, famoso della Repubblica, dice il voto popolare, non è, tra l'altro è un pezzo molto interessante, lo trovate su internet, leggetevelo che vi spiega esattamente come funziona il voto, il voto popolare non è perfetto, è stato corretto con altre votazioni per evitare che a vincere ogni anno sia il brano con maggiore popolarità, penalizzando quelli con maggiore qualità. Cioè, siccome il voto popolare dà più popolarità, bisogna prendere una giuria che sceglie la qualità e la giuria da che è fatta? È fatta da noi giornalisti, una casta di cretini, che l'unica cosa che hanno in comune è un tesserino inutile, perché tutti oggi possono essere giornalisti e tutti lo potevano essere ieri e il nostro tesserino è una cosa totalmente inutile, cioè la casta dei giornalisti è meglio del popolo. Ma non basta! Diciamo che i 300 giornalisti sono meglio del popolo! Non è così! Perché, voglio dire, rappresentano, bastava vedere le scene ieri in rassegna stampa erano dei tifosi. Ma voi mi dovete spiegare, ma Gio Bastianich, che non è né di estra né di sinistra, ma che c'entra con la musica italiana? Serena Dandini, ma che c'entra con la musica italiana? Beppe Severnini, ma che c'entra con la musica italiana? Ospetec, ma che c'entra con la musica italiana? Claudia Pandolfi, un mito, ma che c'entra con la musica italiana? Cioè, la qualità è di queste otto persone contro milioni di persone che votano al televoto? È sempre avvenuto, non è questa la prima volta! Non è questa la prima volta! Assolutamente d'accordo con tutti quelli che fanno la critica, però, esplicitare questa roba, come è stato fatto quest'anno, è una cosa che, devo dire la verità, dà il segno dei tempi che passano. Bene? È solo quello che voglio dire. Maschironi dice, una minoranza non batte un pubblico. Qua non stiamo facendo la decisione su vaccini sì, vaccini no. La qualità di una canzone, voi mi dovete spiegare, c'è un algoritmo? Oppure è un gusto personale? A me piace Mbomuda, a me piace Ultimo, a me piace Bertè. Cioè, la qualità, ma chi cavolo la stabilisce? Una giuria di qualità presieduta da uno, bravo, l'unico, che è la presieduta da Ospetec, i tweet di Salvini se lo poteva evitare. Cioè, Salvini che deve buttare sempre la sua carico da cento per fare il sovranista, beh, quello ce lo potevamo tutti quanti evitare. Chi se ne frega di del tweet di Salvini. Poi, se Veneziani scrive, se si fosse chiamato Michele, probabilmente Moumede non avrebbe vinto, questo ci può stare, perché queste giuridie di qualità, in realtà, la qualità a cui pensano è il messaggio, che deve essere sempre politicamente corretto. Dell'Abruzzo vi ho parlato, su Banca Italia, ragazzi, qua è una cosa incredibile la storia di Banca Italia, perché in Banca Italia, io dico, c'ha il diritto il Vice Premier e il Ministro Salvini che fanno parte di un Consiglio di Ministri di dire loro sulla nomina del Vice Direttore della Banca d'Italia? A questa risposta, a questa domanda, voi che risposta date? Sì! Perché la nomina del Vice Direttore della Banca d'Italia è fatta dal Direttorio della Banca d'Italia, cioè dalla stessa Banca d'Italia. Sentito il Consiglio dei Ministri è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, Allora, se lo senti il Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri potrà altrimenti dire sono sette anni che è stato in là, noi abbiamo valutazioni diverse, lo potrà dire o non lo potrà dire? Lo potrà dire! Cosa non poteva dire? Era Renzi che due anni fa fece una mozione in Parlamento contro Visco e oggi Repubblica mi scrive assedio a Banca Italia Enrico Letta non si deve uccidere l'arbitro Oh! Ma il tuo partito cercava di uccidere l'arbitro Questi hanno dato un loro parere secondo quello che chiede il come si dice la legge ma non vale poi leggi Moavero Ministro degli Esteri oggi intervista del Ministro degli Esteri di Moavero e dice che bisogna ricucire con Parigi Macron ha delle sue ragioni molto aperto su questa cosa è evidente che Di Maio ha fatto una minchiata a incontrare quel gile giallo poi però leggi il titolo di Moavero oggi Salvini Di Maio la linea la dà Conte allora se voi mettete come titolo di un'intervista del Ministro degli Esteri che può dire poco Conte lo prendo sempre in giro quando legge l'intervista di Conte non c'è scritto nulla Di Maio dice sempre la stessa discorotto sul reddito di cittadinanza Salvini sempre la stessa cosa sugli immigrati però dicono delle cose ma quando legge un ministro che scrive Salvini Di Maio è la linea del conto tu prendi il giornale e lo stracci non lo leggi perdi tempo è inutile che prendete per il culo internet le fake news la qualità ma se la qualità dei giornali italiani è che tu permetti al Ministro degli Esteri di dire Salvini Di Maio la linea della Conte qual è qual è il valore di questa intervista zero doppio zero ultima cosa bellissima oggi il fondo del giornale con Giannino della Fratira che dice un'altra cosa che rompe un'ipocrisia ed è quella del giorno del ricordo sulle foibe italiane e soprattutto sugli esuli esuli 300.000 che se ne sono dovuti scappare perché rischiavano di venire ammazzati dai comunisti dite con me comunisti lo sapete dire comunisti titini gli stessi comunisti che quando gli esuli arrivavano a Firenze gli lanciavano le bottiglie come ricorda come ricorda bene Giannino della Fratira questi comunisti avevano come loro rappresentante un altro comunista che si chiama Napolitano che ha fatto il presidente della Repubblica e che quando sono arrivati i carri armati sovietici a Budapest stava con i carri armati sovietici del partito comunista e allora porca puttana se sono morti infoibati degli italiani solo per il fatto di essere italiani e questo ha fatto benissimo Mattarella a ricordarlo come nota Giannino della Fratina non ricordare il fatto che Napolitano era l'ultimo che doveva stare zitto per tutta la sua storia su quello che è successo gli infoibati forse come possiamo dire poteva non ricordare Napolitano come dice giustamente Giannino della Fratina poteva ricordare Ciampi poteva ricordare Berlusconi che fece poteva ricordare Menia poteva ricordare tutti quelli bravi che hanno combattuto i comunisti chiaro? detto questo per oggi è tutto questa sera noi facciamo Quarta Repubblica in prima serata sarà difficilissima ve lo dico subito perché questa sera c'è Montalbano 40% di Montalbano noi siamo straschiacciati da Montalbano su Rai 1 però noi parleremo di Sanremo quando tutti stanno lì a guardarsi Montalbano e lo vogliamo fare proprio dedicandolo ad Assante è vero che bisogna dare un voto di qualità perché senza qualità le canzonette non funzionano bene e la qualità chi la sceglie ovviamente oltre a questo avremo un altro piccolo scoop di giornata cioè la Marine Le Pen che ci spiega se Moavero ha ragione cioè se gli italiani devono ancora chiedere scusa ai francesi Marine Le Pen collegata questa sera a Quarta Repubblica e tante altre cose quindi non mancate ditole ai vostri amici e mollate Montalbano se vi piace ve lo dite registrato ma noi in diretta ciao ciao